amici di atti sport 24 ben ritrovati nuova puntata di due metri la palla notovista da vicino continuiamo ad occuparci dei playoff del campionato di serie 2 femminile e torniamo oggi a parlare di brizzinuto per farlo è venuta a trovarci l'attaccante della compagine etnea martina spampinato ciao martina benvenuta è un piacere averti nostra ospite martina e siamo al momento della verità poi vediamo la partita che vi attende però mi piace iniziare la nostra chiacchierata chiedendoti con il 9 a 9 in gara 2 di semifinale contro la n e brescia la britz si qualifica per la finale playoff come avete mandato in archivio il pari contro la formazione lombarda allora sicuramente sapevamo che la partita di ieri non sarebbe mai stato uguale a quella di sabato quindi l'abbiamo affrontata sicuramente con più cioè con più ansia perché sapevamo che il grescia ce l'avrebbe messa tutta per recuperare i gol che di differenza reti che aveva preso da noi però credo che siamo entrati in acqua con la voglia di vincere quella partita di comunque avere un risultato che ci avrebbe poi permesso di qualificarci alle finali e ci siamo riuscite quindi per noi questo è l'importante poi sicuramente la potevamo giocare meglio abbiamo fatto delle potevamo finalizzare delle azioni però noi siamo contenti così ci siamo finalmente presi per la seconda volta una finale playoff adesso queste due partite le mettiamo da parte prendendo le cose buone per portarle a Bologna cosa vi ha detto il vostro mister a fine partita il nostro mister ha detto ce l'abbiamo fatto non abbiamo adesso nulla da perdere giochiamo come sappiamo fare e poi quello che avviene vedremo perché alla fine è l'importante che noi giochiamo perché siamo un'ottima squadra che quando giochiamo tutti insieme possiamo fare questo e altro quindi sono sicura che potrà andare bene insomma mi sembra di capire che l'obiettivo minimo è stato raggiunto sì sicuramente l'obiettivo come avevo detto anche le mie compagnie nelle scorse interviste era quello di raggiungere la finale playoff poi se dopo viene altro bene però adesso già siamo contenti ora non abbiamo nulla da perdere va quindi allora io continuo la nostra riflessione su questa linea evidenziando che siete alla seconda finale playoff consecutiva l'anno scorso la sconfitta in tre partite contro il noto club Milano quest'anno e la vediamo l'analizziamo nel dettaglio tra poco la sfida contro sempre la prima del eh girone nord ehm la rariante Sbologna che significato assume per il percorso di crescita della Brits essere nuovamente in finale essere all'ultimo step prima di poi coronare di festeggiare un'eventuale promozione in Serie A1 sicuramente essere arrivati di nuovo in finale è un po' la chiusura di un percorso che è stato pieno di alti e bassi ehm sicuramente è stato un anno impegnativo per noi tralasciando i mille impegni che abbiamo preso per questo sport e magari eh le mille feste saltate ma anche diciamo a livello di squadra essere arrivati in finale è un po' come dire ce l'abbiamo fatta avete visto perché comunque eh è stato veramente un anno difficile in cui siamo partite bene poi abbiamo avuto un calo poi di nuovo bene e quindi diciamo che ci voleva cioè ci ha fatto capire che effettivamente non siamo scarse e ce la possiamo fare se vogliamo quindi sicuramente è un'ottima chiusura di percorso eh che ci ha fatto dimostrare che se vogliamo possiamo fare questo e altro e adesso come hai detto tu da parte le due partite di semifinale da parte la regular season adesso è il momento della verità c'è lo sprint finale e il tutto per tutto eh giustamente tu hai detto noi non abbiamo nulla da perdere però sicuramente partite con un piccolo svantaggio eh da un lato perché eh avete praticamente quarantotto ore per eh preparare gara uno di finale ma anche dal vantaggio che magari avete fatto due partite in più rispetto alla vostra prossima arrivare allora inizio mh con il voler sapere che tipo di lavoro si svolge nelle poche ore che poi vi separano dall'inizio del momento della verità allora già da oggi entriamo in acqua sicuramente non abbiamo cioè non abbiamo troppo tempo però mh credo che di più sia un lavoro di testa non tanto di di schemi o di preparare le partite è più un fatto di testa di squadra di unione che c'è tra di noi perché diciamo che è questa la cosa che ci può differenziare dalle altre il gruppo che abbiamo poi sicuramente le partite vanno preparate infatti noi già da oggi le inizieremo a preparare eh questo sicuramente il Bologna è un'ottima squadra che ha avuto magari più tempo per preparare questa finale che comunque eh si aspettava però è una finale per entrambi quindi sarà tutta da scoprire poi in acqua schemi e non schemi quindi ci scoprirà e allora andiamo a scoprirla o almeno ci proviamo eh domenica c'è gara uno contro la rarinantes Bologna la vincitrice del girone nord che partita ci possiamo aspettare considerando che parliamo di un primo atto di una gara nella quale forse eh il vostro vantaggio principale può essere quello di eh non avere neanche la pressione perché poi giocando fuori casa eh sono loro a non dover sbagliare che match ti aspetti? Esatto come hai detto tu eh di più loro avranno pressione proprio perché sono in casa come poi l'avremo noi il giovedì quindi aspetterà tutte e due questa pressione sicuramente secondo me è un match da scoprire perché non ci conosciamo loro non conoscono noi e noi non conosciamo loro partiamo entrambi dal zero a zero è una finale dove l'ansia e la tensione l'avremo entrambi quindi a chi la gestisce meglio forse quindi vedremo io noi non ci aspettiamo nulla quindi lo scopriremo giocando eh poi quello che avviene ci prendiamo e chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta quali saranno secondo te i fattori decisivi per tornare a casa con i tre punti dov'è che si deciderà il match? Eh credo che il match si deciderà poi a Catania non lo so eh secondo me sicuramente domenica sarà pesante sarà una partita pesante sia perché è la prima quindi sicuramente ci sarà molta tensione poi non ci conosciamo quindi sicuramente già a gara due sarà più eh sarà molto diversa proprio perché già ci siamo conosciute già sappiamo contro chi andiamo a giocare eh quindi sicuramente gara due è molto importante eh cioè alla fine noi ripeto siamo serene perché non abbiamo nulla da perdere da un lato quindi entriamo giocando eh come sappiamo fare che è la cosa migliore va bene siamo così al termine della nostra chiacchierata è stato un piacere avere con noi Martina Spampinato ciao Martina grazie ciao grazie a te grazie mille e non posso far altro che concludere dando appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata